il assessore alla sanità del PD, il segretario regionale del PD, indagato il governatore del PD su denuncia di chi? Di quei fenomeni dei 5 stelle che oggi si alleano col PD una roba veramente imbarazzante e infatti quando vengono in Umbria, se ci fate caso, i Di Maio, gli Zingaretti non vanno nei mercati, nelle piazze, in mezzo alla gente vanno al chiuso perché hanno vergogna di farsi vedere dagli ombri e fanno vedere alla vergogna detto questo, 15 giorni, i primi temi su cui lavorare 1. la sanità, ridurre liste d'attesa che sono folli ci sono donne e uomini che io sto incontrando che si sono sentiti dire signora, ritorni fra due anni in ospedale per farsi visitare è una roba inammissibile nel 2019 trasparenza nei concorsi pubblici assumere i migliori a lavorare per la regione non gli amici degli amici dei raccomandati con la tessera di sinistra giusta in tasca assumere i migliori e poi chi sceglie il simbolo della Lega fa una scelta chiara per quello che riguarda le case popolari i contributi regionali, il bonus bebè, il bonus affitto i contributi pubblici visto che non c'è tutto per tutti se vince la Lega prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo prima vengono i ferugini e poi viene il resto del mondo perché chi è qua da 30 anni ha qualche diritto in più rispetto a chi sbarca domani mattina mi sembra a me sembra una roba normale per quelli di sinistra invece è un ragionamento razzista, fascista, nazista questi vogliono tornare a far quattrini hanno riaperto i porti perché vogliono tornare a far quattrini hanno bisogno di nuovi schiavi per le fabbriche, per le cooperative e per i loro campi questo è però noi non vogliamo la schiavitù nel 2019 quindi un voto per la sanità, per le infrastrutture strade, ferrovie, aeroporti non ci può essere un aeroporto a Perugia dove di settimana in settimana non sai che voli vanno, che voli vengono, da dove vai, da dove parti e se c'è un aeroporto fagli fare l'aeroporto anche perché il turismo in Umbria potrebbe essere quello che è il petrolio per i paesi arabi ma se non ci porti la gente col treno o con l'aereo come fanno a venirci in Umbria? sei l'unico frecciarossa parte alle 5 della mattina e uno deve mettere la tenda in stazione e sei l'aeroporto non sai dove vai e dove torni un po' di organi va bene che i geni del PD che c'era dal governo sono riusciti a far pubblicità all'Umbria mettendo in giro le foto della Toscana quindi voglio dire e su questo l'alleanza con Di Maio ci sta bene perché più o meno la concezione del mondo è ministro degli esteri quindi gli dai una mano va bene, dai sorridiamo perché sabato per molti di voi sarà stata una settimana molti hanno il brutto vizio di andare a lavorare da lunedì al venerdì quindi non avendo 30 euro al giorno quindi sanità, infrastrutture, sostegno alle imprese io sto incontrando in giro per l'Umbria sia in provincia di Perugia che in provincia di Terni imprenditori agricoli che aspettano i loro contributi che li aspettano per legge da 4 anni da 4 anni e intanto uno fa in tempo a fallire intanto che in regione dormono perché probabilmente hanno altre urgenze che non sostenere le imprese, le aziende agricole attenzione poi io non prometto miracoli non vengo qua il sabato 12 di ottobre a dire votate la Lega che in 15 giorni noi risolviamo i problemi del mondo io vi prometto 5 anni di lavoro onesto e di impegno per gli Umbri a prescindere dalle tessere che hanno in tasca noi vedremo di aiutare tutte le imprese non solo gli amici tutti i lavoratori non solo gli amici però qua ci sono 50 anni da recuperare quindi in 5 anni ce la faremo stiamo dimostrando a livello locale di che pasta siamo fatti mi piacerà poi portare in Umbria quello che la Lega già sperimenta laddove governiamo ad esempio in regione Lombardia anche quest'anno con i soldi della regione 41 milioni di euro ci mettiamo vanno all'asilo nido gratis completamente gratis 15.000 bambini con le mamme e i papà che non si possono permettere di pagare la retta dell'asilo nido e il 90% sono italiani perché noi abbiamo messo nel bando che per avere quel contributo entrambi i genitori devono lavorare perché all'asilo nido ci vai se lavori non se sei a casa che guardi le stelle in modo tale abbiamo aiutato chi lavora davvero non chi lavora per finta la regione è importante anche se non ha competenze dirette sul tema sicurezza e immigrazione perché avete letto questi stanno litigando su tutto a Roma Conte, Di Maio, Renzi oggi leggevo i giornali venendo qua il sole 24 ore quindi il quotidiano di Confindustria spunta l'ipotesi di una tassa sui telefonini e di un aumento dell'Imu ci hanno spiegato che facevano il governo per evitare l'aumento delle tasse e in un mese hanno partorito non me le ricordo manco tutte la tassa sulle merendine la tassa sulle bibite gasate la cosa più demenziale la tassa su chi fa la spesa pagando in contanti ed è un regime quello dove tassano chi fa la spesa in denaro con tanti ed è l'ennesimo regalo alle banche sarebbe semplicemente questo per mandarli a casa in democrazia anche le elezioni in Umbria sono un passo importante infatti cosa dicono quelli là? sia Di Maio che Zingaretti se badate eh ma il voto in Umbria non è importante sì, è vero votano in Umbria però non è che sia importante più di tanto che cosa significa questo? che hanno paura perché hanno capito che perdono il 27 ottobre in Umbria e fatemi vedere voi quanto non è importante il voto degli Umbri già vanno preso per scemi però gli Umbri sono tutt'altro che scemi perché ripeto mettere insieme quelli che fino a un mese fa si sono denunciati e fatti arrestare è una roba io questo io non ce la faccio avere questo stomaco qua nel senso che se io dico mai col PD possono promettermi tutte le poltrone del mondo ma io col PD non mi alleerò mai né in Umbria né in Italia né su Marte perché abbiamo idee diverse e la cosa che mi riempie di gioia in questi giorni in giro per l'Umbria è che io sto trovando nelle piazze tanta e tanta gente da Gubbio a Foligno a Narni a Spoleto trovo tanta gente che dopo l'intervento quando ci salutiamo ci scambiamo due parole mi dice Salvini io ti dico una roba per 50 anni ho votato a sinistra ho votato a sinistra perché mio nonno era partigiano perché mio babbo era operaio per tradizione per cultura per fede per fiducia per speranza e in tanti mi dicono io il 27 ottobre non l'avrei mai pensato nella vita ma non voto più a sinistra perché ormai al fianco degli operai c'è rimasta la Lega e quindi il 27 ottobre c'è il Gola Lega alle affaierie di Terni nelle aziende agricole fai terremotati di Norcia ormai nelle sedi del PD c'hanno più bacchieri che operai artigiani e precari c'hanno quindi però vedremo di meritarcela questa fiducia tornando a Perugia dal 28 ottobre in poi perché ovviamente noi ci vediamo prima del voto però la differenza la Lega la vuole fare dopo il voto perché adesso ci sono i tabelloni elettorali pieni di gente che sorride che promette nella casella delle lettere vi arriveranno 38 volantini e lettere di gente che dice ci penso io faccio io l'unica cosa a cui vi chiedo di pensare è se queste lettere arrivano dal PD che dice farò io ci penso io sistemare le cose in Umbria e ma tu buon Dio che cosa hai fatto per 50 anni quando hai governato in Umbria non potete mica pensarci prima ti svegli che adesso ci penso io noi qua in regione non abbiamo mai governato manco un po' cosa cenere quindi possiamo essere messi alla prova e ripeto dove governiamo la regione Veneto non ha l'addizionale regionale IRPE quindi non si paga l'IRPE sulle case popolari in regione Lombardia i settantenni che sono sempre stati regolari nel pagamento dell'affitto da quest'anno hanno affitto zero per riconoscere chi ha fatto il suo dovere a rispetto di quelli che occupano fanno casino non pagano e quindi sono cose che se si possono fare a Milano e si possono fare pure a Perugia non è che sono cose da scienziati basta decidere dove mettere i soldi dicevo l'immigrazione perché l'Umbria è una delle tre regioni italiane che è già ritornata a godere dell'invio di nuovi immigrati perché in un mese gli sbarti sono triplicati rispetto al settembre dell'anno scorso e i geni del ministero le prime decine di nuovi immigrati da ricollocare dalla Sicilia li hanno mandati ad Ancona Avellino e Terni e eh signora va bene va bene va bene non ha tutti i torti avere un governatore della Lega significa che quando da Roma chiameranno per chiedere quanti ne accogliete in Umbria la risposta sarà zero perché abbiamo già pagato abbastanza abbiamo già speso abbastanza e abbiamo già sofferto anche abbastanza perché poi quelli che scappano dalla guerra li trovi in giro a spacciare droga per Perugia che la guerra te la portano a Perugia invece di scappare dalla guerra e quantomeno grazie al decreto sicurezza si possono espellere cosa che prima non si poteva fare con le leggi di prima anche se beccavi un richiedente asilo che spacciava droga per Perugia non lo potevi espellere fino a che non finiva la sua domanda di asilo adesso lo puoi prendere e caricare sul primo aereo con due pedate e dirgli caro amico qua non ti vogliamo più vedere in giro perché essere buoni si fa sempre scemi no tocca a voi dica signora un bacio signora poi la sinistra fa un'interrogazione parlamentare signora sospetta che vuole dare un bacio a Matteo Sambini tu sei? sei di Perugia adottiva sei di Castellavare di Stadia e devi andare a lavorare che banale che sei ma che direi di per i cittadini grazie tanto ci pensa di Mario dai sto scherzando sto scherzando vai in carcere allora fai la cuoca ecco questo mi permette di ricordare che io tra le tappe umbre sono stato contento di andare nelle carceri umbre ma non a trovare i carcerati ma a trovare i poliziotti per vedere come stanno i poliziotti a Perugia pensate che a Perugia ci sono 120 detenuti con problemi psichiatrici quasi tutti stranieri le risorse quelle della Moldrini le risorse della Moldrini va in carcere a Perugia a guardare le risorse però signore lei deve andare a lavorare venga però venga 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 entro tanto non ha la faccia sospetta sembra una terrorista poi l'ho finita anche perché molti per essere qua magari hanno lasciato il banco per due minuti io mi chiedo di due cose le ultime due cose uno di far politica anche quando fate la spesa al mercato al supermercato vi chiedo di comprare italiano mangiare italiano e bere italiano mangiare Umbro bere Umbro perché anche quello è far politica venga signora come si chiama signora Rosaria buon lavoro e l'ultima riflessione e poi mi fermo chi è che vuole salutare qualcuno al termine vuole fare una foto mi fermo mi fermo poi mi fermo giuro poi mi fermo mi faccio però ho una richiesta io a voi posso farvi una richiesta io poi ci metto l'anima oggi facciamo Perugia poi facciamo Anderuta poi dove andiamo Poligno Giano dell'Umbria Romani Castellitaldi Spoleto Monte Castrilli Acqua Sparta Ale e lunedì in carcere a Spoleto però contiamo di uscirne anche a carcere Spoleto però a me piace per me la politica è passione uno potrebbe andare solo in televisione e parlare dell'Umbria senza esserci mai stato a me piace toccarle con mano le cose quindi non è soltanto così vi chiedo vi chiedo di usare questi 15 giorni come se fossero gli ultimi oggi è il 12 di ottobre si vota il 27 di ottobre alle elezioni regionali dai che c'è anche un compagno senza un compagno noi non stiamo bene ma c'è sempre anche settimana scorsa a Narni c'erano centinaia di persone e c'era uno che è passato da dietro così se il programma politico del PD è insultare chi non la pensa come loro abbiamo già vinto abbiamo già vinto vi vogliamo bere e canta della ciao che ti passa vai e ti mandiamo a X-Factor se sei incollato ma mettetemi nei panni di chi pensava che l'Umbria fosse cosa sua e potevano mangiare truccare i concorsi non so se avete letto le intercettazioni con quella dei concorsi truccati che si lamentava al telefono dicendo mi hanno passato solo le domande ma non mi hanno dato le risposte vi hanno preso proprio per dei servi dove potevano fare qualunque cosa tanto per altri 50 anni vinceva la sinistra io vi chiedo di trasformare il 27 ottobre 2019 in una data che si ricorderanno i vostri figli e i vostri nipoti la festa della libertà dell'Umbria la festa della rinascita dell'Umbria la festa della ricostruzione dell'Umbria viva la Lega viva Perugia viva l'Umbria e grazie per tutti gli Umbri che sveglierete in questi 15 giorni perché e chiudo con questa riflessione l'ultima volta è andata a votare la metà della gente la metà della gente l'ultima volta è rimasta a casa io vi chiedo in questi 15 giorni di adottare uno due tre vostri concittadini colleghi parenti conoscenti perché questa volta la differenza la fa il voto di ogni singola donna e di ogni singolo uomo magari l'ultima volta la metà della gente non andava a votare perché ha detto ma tanto voto o non voto ai 50 anni che vengono sempre gli stessi non cambia nulla stavolta per la prima volta in Umbria dal dopoguerra ogni donna e ogni uomo di Perugia con la sua partecipazione può scrivere una pagina di storia se vi regalate questa giornata di coraggio io dal 28 ottobre torno in Umbria e mi ci trasferisco per rendere questa terra quello che noi di stati estero grazie in tutto il lupo buona fortuna buona vita e buona Umbria a tutti quanti grazie di cuore e Mila Perugia adesso se qualcuno vuole fermarsi per una foto o per due parole mi fermo per tutto il tempo necessario da dove si entra? dalla mia destra ovviamente fischiettando bella ciao mi raccomando amico mio grazie a tutti